Qualcuno dei politici ha provato a scansare il tema Ilva-Taranto, ma alla fine chi più, chi meno, ha dovuto affrontare l'argomento. I tour della campagna elettorale hanno portato nel capoluogo ionico diversi rappresentanti della politica nazionale e se inizialmente si temeva che l'avvertenza Ilva rischiasse di essere strumentalizzata, alla fine neanche più di tanto se n'è parlato e a volte con dichiarazioni non proprio incisive del tipo «Bisogna coniugare i diritti della salute e del lavoro», un mantra che, diciamo così, già sentito dai tarantini e che dice tutto e nulla sulla possibilità di una reale soluzione. Tanti slogan da parte dei politici come «Ci proponiamo di difendere il mantenimento dei posti di lavoro abbinandolo a provvedimenti seri sul tema della salute», incalzando se necessario anche gli acquirenti Ilva, lo ha detto Renata Polverini, candidata a Forza Italia alla Camera. Nelle stesse fila Vittorio Sgarbi, chiudere l'Ilva sarebbe una violenza per i lavoratori, ma va resa totalmente pulita. Il diritto al lavoro è il primo diritto della Costituzione. Ilva deve continuare a dare posti di lavoro e ne deve dare anche di più di quanti ne sta dando, ha detto Luigi Di Maio, leader dei Cinque Stelle, accennando alla riconversione non usando mai la parola chiusura.